Tre campionati europei che consacrano Pesaro, capitale europea della ginnastica 2021. 1500 atleti provenienti da 32 nazioni, biglietti giornalieri su vivaticket.com. Il 17 settembre alle ore 16, ad impreziosire la cerimonia di apertura, si esibiranno le magiche farfalle azzurre di ginnastica ritmica, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Grazie.